benvenuti alla resegna stampa di oggi giovedì 29 giugno questa è fano tv sul canale 17 c'è l'informazione con la lettura dei giornali il carlino il corriere adriatico prima il santo del giorno lo vediamo con il calendario di oggi oggi la chiesa ricorda i santi pietro e paolo apostoli il sole è sorto alle 5 28 e tramonterà le 20 55 allora un fine di giugno perturbato quello che ci attende nei prossimi giorni a partire da oggi anche ieri notte insomma c'è stata c'è stato c'è stato un po di maltempo con precipitazioni anche grandinate un po diffuse mi riferisco alla provincia di peso urbino allora vediamo per oggi cielo sereno poco nuvoloso possibilità di brevi locali rovescio temporali nelle zone della montagna le temperature sono stazionarie i venti moderati e saranno di vento forte lungo la fascia costiera mentre burrasca forte lungo il crinale quindi nell'entroterra poi in diminuzione l'intensità dalla serata per domani venerdì non migliora anzi peggiora un po il tempo con precipitazioni dal tardo pomeriggio con rovescio temporali sparsi più insistenti nelle zone interne temperature senza variazione di rilievo i venti saranno sud occidentali e fino a raffiche di vento forte il mare sarà mosso e sabato lo stesso il tempo vedete il primo di luglio si apre con i rovescio i temporali locali nelle prime ore della giornata e possibilità di deboli fenomeni nel tardo pomeriggio lungo la fascia costiera quindi sabato pomeriggio le temperature ancora in diminuzione i venti di brezzatese il mare sarà poco mosso ma lieve instabilità prevista anche per la giornata di domenica il resto del carlino la pagina principale è la fotonotizia per la tragedia piena di rabbia che vedete nella fotografia la tragedia di questo anziano che è morto ribaltandosi con il suo motocarro in una strada sterrata muore carlo alberto di otalleve 80 anni residenti di via fratti a pesaro dice dicono lo avevamo detto c'è troppo pericolo la rendita da un milione distribuita su vent'anni vincita l'ipercop di pesaro per vent'anni questo fortunato fortunata vincitrice si porta a casa 4 mila euro al mese poi a fano l'assalto con la ruspa al distributore kuwait via con 15 mila euro di bottino sulla monte labattese stessa marca quindi stesso kuwait ennesimo colpo a gabice invece un turista salito da uno scippatore che poi è riuscito a dileguarsi questo scippatore ha gettato a terra questo turista e gli ha strappato la collana allora dicevamo di questo di questa di questo dramma di questo ottantenne carlo alberto di otallevi residente a villa san martino con la moglie gabriella è stato trovato ieri senza vita in questo all'interno di questo noi abbiamo chiamata a pecar insomma ecco di questo piccolo mezzo che usava utilizzava anche per piccoli traslochi forse un malore o la curva presa a velocità eccessiva l'uomo è morto sul colpo il dolore del figlio che racconta lo aveva lo avevo appena sentito per telefono e mi aveva detto sto arrivando a casa tutto il pezzo con i dettagli anche un retroscena lo troverete sul carlino di questa mattina la firma di alessandro mazzanti marotta marotta unita forse sarà solo un sogno la corte costituzionale può ribaltare infatti tutto quanto i giudici si esprimeranno sul ricorso fatto dal comune di di fano il 7 novembre d'innanzi alla corte costituzionale si svolgerà questa udienza pubblica per esaminare la legittimità della legge regionale in questione sollevata dal consiglio di stato a seguito del ricorso fatto dal comune di fano la sentenza seguirà poi all'udienza del 7 novembre è per il gennaio gennaio più o meno del 2018 la pagina di fano invece per la prefettura il dragaggio è un'emergenza siamo al porto la procedura normale richiede troppo si utilizzi la cassa di colmate di ancona in questo modo si dà una prima risposta per l'attacco e la navigazione il carnevale estivo feste e cartapeste il carnevale ci prova d'estate tre giorni di divertimento a fano dal 14 al 16 luglio prossimi tutto il programma in questo articolo nel dettaglio la presidente dell'ente carnevalesca maria flora giammarioli dice quest'anno puntiamo a recuperare la tradizione come ad esempio i laboratori la pagina di urbino un campo sempre verde per il territorio aperta la nuova struttura per il calcio da comune federazione italiana gioco calcio e new football team apriamo adesso il core adriatico eroina letale polizia a caccia di spacciatori al miralfiore richiedente asilo è stato arrestato al parco condannato però è già tornato in libertà mentre qui nella fotografia c'è il ride al distributore kuwait di fano ruspa battesel service colpo nella notte lungo l'interquartieri a fano ed eccola qua la pagina con le fotografie con tutti i dettagli precedenti che riguardano questi assalti che ormai sono più o meno tutti uguali tre banditi incappucciati sono entrati in azione con una ruspa che è stata rubata nel cantiere della 14 e un furgone sottratto all'aset sotto invece uno schianto uno schianto tra una golf e una punto in via del ponte nel quartiere san lazzaro a fano la strada è stretta ci sono due feriti lo scontro in via del ponte residenti chiedono da tempo un senso unico la pagina di fano passa la delibera sul fondo cives adesso si attende sì della regione non basta il fuoco di fila delle opposizioni per sbloccare rsa piscina e housing sociale ora interviene anche il prefetto sul dregaggio un dregaggio d'urgenza dice pizzi che convoca il comune la capitaneria la regione e l'autorità portuale di ancona un altro bar dicevamo questa volta sempre con la stessa marca kuwait assediato dai ladri terzo colpo in tre mesi non c'è pace per la stazione lungo la monte labatese l'altra notte un nuovo furto razzia di stecche di sigarette la droga invece al parco miralfiore l'ora della bonifica ora il miralfiore è sorvegliato speciale la polizia arresta un immigrato spacciava anche nei giardini dietro il tribunale condannato e già è già libera libero andiamo sulla pagina della valle del cesano sia la consulta per il turismo ma occorrono alcuni correttivi l'opposizione chiede di valorizzare la proloco e un ruolo incisivo dell'assessore alla cultura applausi alla nuova storia e un milione dal governo si è insediato il consiglio di terre roveresche emozionato il sindaco sebastianelli antonio sebastianelli lo vedete nella fotografia pubblicata dalla corriere durante il suo insediamento e dunque c'è anche possiamo leggerlo possiamo leggerli i nomi di coloro che fanno parte di questa giunta il primo consiglio comunale che si è tenuto nella sala il castagno di orciano si è aperto con l'insediamento degli eletti e la carica di sindaco di consiglieri comunali sono antonio sebastianelli lucia borsini ortensia sbrozzi giovanna balducci luciano barbetta claudio patrignani gialluca ligustri milena biondi e cristian andreani per la minoranza invece maurizio cion cinzia malvoni francesca gimignani e roberto calcagnini questa non è la giunta chiaramente è il consiglio il consiglio comunale di terre roveresche da senigallia invece un bambino che ha rischiato di annegare è stato salvato dalla bagnina sciocchi ieri mattina nella piscina dell'acqua pazza il piccolo era con un gruppetto del centro estivo della cesanella sono stati veramente momenti di terrore il bambino non era cosciente è stato rianimato sul posto e poi trasportato all'ospedale salesi di ancona l'ultima ancora le ultime due pagine torniamo ad urbino varea ecco il centro federale pronto il nuovo campo sportivo ad agosto tavecchio potrebbe partecipare all'inaugurazione fondo in sintetico e spazi per il calciotto il sindaco dice e parla di un impianto splendido che servirà anche per i giovani e poi ancora l'ultima pagina questa volta parliamo di tasse ahimè perché entro domani il 30 giugno a pesaro va pagata la tari c'è stata quest'anno eccezionalmente la proroga di due settimane a causa due settimane a causa dei bollettini recapitati in ritardo il gettito previsto per il comune di peso di 18 milioni di euro la tari può essere pagata in un solo versamento oppure anche in più rate ma il titolo del corriere di questa mattina è rifiuti imu multe e arretrate in 300 rottamano le cartelle ci sono ancora da riscuotere oltre 3 milioni e mezzo di euro e domani appunto come detto scade la tari prorogata vi saluto però facendovi vedere questa fotografia che come sempre i nostri segnalatori ci inviano da ogni parte questa è una fotografia che ci ha inviato Paola da Pesaro ieri sera c'è stato a Pesaro un temporale breve ma intenso che ha provocato come vedete la caduta di questa pianta su un'auto in Viale Trieste e come vedete sulla destra nel vostro teleschermo si intravede anche il camion dei vigili del fuoco vigili del fuoco che naturalmente sono intervenuti alle 22 di ieri sera questo è l'orario in cui è stata scattata la fotografia sono intervenuti per liberare la strada e chiaramente anche l'auto dal ramo che è caduto lei è caduto sopra ok noi ci fermiamo qua grazie per averci seguito vi ricordo che questa sera alle 20.30 c'è il telegiornale Occhio la Notizia e il 338 4968 250 è a vostra disposizione per le segnalazioni grazie per averci seguito buona giornata a tutti grazie per averci seguito